ma è completamente differente dalla nostra mentalità la nostra cultura dunque sono affascinanti da un lato e abbiamo visto una cultura diversa oggi abbiamo fatto un giro anche per il mercato una cosa che comunque ti lascia qualcosa dentro e fa esperienza dunque sono belli da vedere. La cosa più difficile è la situazione ambientale perché giocare a 2200 metri non è facile a livello per respirare per recuperare dopo uno sforzo è complicato e loro sono molto più abituati si è visto ieri giocando con gli arabi che hanno fatto molto meno fatica rispetto a noi però siamo in fase di preparazione va bene anche così ci aiuterà a migliorare la nostra condizione facciamo partite questa è la cosa importante ma sì ognuno ha portato qualcosa di diverso c'è tutta da parte di tutti la voglia di applicarsi di inserirsi in questo in questo contesto comunque l'approccio iniziale è stato importante e positivo da parte di tutti quanti sicuramente al momento che saremo al completo verranno fare anche le qualità tecniche ogni singolo singolo giocatore ma sicuramente l'approccio positivo che c'è stato da parte di tutti è il modo giusto per iniziare questa nuova avventura perché che cos'è questo è un museo è un museo va bene così in questo momento far fatica e ben vengono le partite gli allenamenti per arrivare al 31 in buona condizione